Ciao a tutti e benvenuti, sono Alessandro, oggi ci troviamo nella sala Tito del D'Agostini Lab con i prodotti della TPUA nella serie Caruso, diffusori ed elettroniche. Lascio la parola a Greg, product specialist di Exibo, per le spiegazioni tecniche. Ciao a tutti, sono Greg Zito di Exibo e oggi vi parlo del sistema Caruso di TPUA. Caruso nasce nel 2008 e ancora oggi è uno dei sistemi Only One TPUA più apprezzati. È dotato di lettore CD, connettività Wi-Fi attraverso la quale è possibile usufruire di tutti i servizi di streaming musicali, radio DAB, radio FM, connettività Bluetooth, un'uscita subwoofer dedicata, ingressi analogici e ingressi digitali. Inoltre, attraverso l'ampio display LCD completamente touch, è possibile navigare tra i menu. È possibile controllare Caruso tramite l'app disponibile per iOS e per Android. La linea Caruso va a completarsi con i modelli di diffusori dedicati, due vie da scaffale e tre vie da pavimento, realizzati in MDF e con i pannelli superiori e inferiori in alluminio, tipici di casa TPUA.